Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e oggi parliamo delle sorti di Air Factor 2 e non credo di star esagerando, vi spiego, per chi non lo sapesse in questo weekend scorso è stato corso o meglio hanno provato a correre il Le Mans Virtual 2023, uno degli eventi più importanti a livello planetario per il mondo della simulazione di guida, dove ritroviamo i più forti piloti al mondo virtuali e fior fior di piloti reali come, ad esempio, il campione del mondo in carica di Formula 1, Verstappen Lo stesso Verstappen, ragazzi, di fronte alle problematiche che è successo di tutto in quella gara lì ha fatto delle dichiarazioni che, insomma, non è che fanno una bella pubblicità di Air Factor 2 Allora, prima di tutto ci sono stati bug in generale per quanto riguarda la stabilità del netcode perché c'erano persone che avevano vivendo a ridere perché è una cosa disastrosa, ragazzi, è successo hanno dato due bagniere rosse, ci sono state disconnessioni, c'è stato un lag pazzesco gente che si girava in pista e non si capiva niente, insomma, è stato veramente catastrofico Infatti Verstappen, come vi dicevo, nella sua diretta live ha proprio detto io ho due mesi per prepararmi a percorrere con delle persone che organizzano percorrere in campionati dove organizzano le persone incompetenti, assolutamente era veramente, ho visto il video veramente deluso proprio perché ci teneva, ci ha messo due mesi per allenarsi e mi pare che stava pure dominando la gara e ha dichiarato addirittura io penso che disinstallerò Air Factor 2 lo cestino se il campione del mondo di Formula 1 dice questo come dice, a livello di marketing non è che ti fa bene Studio 397 la Studio 397 con Paul Jeffrey fa un annuncio sul sito il 15 dove dice che durante queste 24 ore ci sono stati problemi, eccetera però pensiamo che sia stato, diciamo, un attacco informatico alla sicurezza perché a quanto pare un indirizzo IP di un server sarebbe stato dato da un team ma non si capisce proprio bene quello che sa di arampicata sugli specchi un pochettino questa di Paul Jeffrey ed è subito appoggiato con la stessa versione dall'account Twitter di quello ufficiale del 24 ore di Le Mans virtuale dove è stato attaccato da commenti stop bullshit che è arrivato è una cosa incredibile dove praticamente dove vengono accusati di aver organizzato con gente incompetente con un gioco buggato un gioco mai completo bla 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 perché vi ricordo che si è passati al Le Mans virtual 2023 e anche quello prima se non sbaglio su Refactor 2 perché c'erano stati problemi con iRacing ma in quei commenti su Twitter tutti tutti i commenti con tag iRacing che sicuramente si staranno sfregando le mani o che si saranno fatti una grassa risata perché sono stati pesantemente comunque criticati ora al di là di quello che è la problematica tecnica che ha subito questo evento mondiale planetario è un danno per l'immagine di questo mondo cioè per la simulazione di guida per far crescere le comunità per avere sangue fresco che entra chiamiamolo così e poi passatemi il termine eccetera ovviamente non è che facciamo una bella figura cioè Refactor 2 Studio 397 e Virtual Eleman quello che è non è che ci hanno fatto fare una bella figura ragazzi e se fosse solo questo il problema uno direbbe vabbè vabbè è stato un problema tecnico purtroppo in uno degli eventi più importanti del mondo però dai il problema è quando ti ritrovi con degli articoli di Insider Game che dicono abbiamo investigato su una faccenda che riguarda Motorsport Game allora Motorsport Game chi sono? allora se non vi ricordate ve lo dico io marzo 2021 Studio 397 annuncia che Motorsport Game acquisisce la Studio 397 studio 397 e fa ragazzi fa Refactor 2 e quando ti ritrovi con un articolo di questo questo ecco qua di questo qua dove dicono che Motorsport Game non paga i propri dipendenti da ottobre 2022 e che i dipendenti minacciano di diffondere i codici sorgente di 5 giochi e non stiamo parlando di giochini stiamo parlando NASCAR IT5 stiamo parlando di NASCAR Indianapolis 2021 e stiamo parlando di Kartcraft se non mi ricordo male Kartcraft ragazzi che è stato comprato anche loro hanno comprato cioè sono stati comprati allora il ragionamento che uno fa se Motorsport Game non ha più soldi e che non paghi i dipendenti e fanno i codici dietro per aggiornare i giochi che succede? allora non credo che Studio 397 abbia la capacità di potersi togliere da Motorsport Game almeno che non ci siano degli accordi particolari ma non credo e comunque questi dettagli non ce li abbiamo può succedere che si ferma e quindi Refactor 2 non viene più aggiornato almeno tranne i modder ovviamente che si blocchi che venga venduto o svenduto perché io commercialmente visto la magra figura che hanno fatto Studio 397 con Refactor 2 due server racherati ragazzi durante quel giorno perché gli hanno dato degli indirizzi IP un team avrebbe dato cioè un arrampicato sugli specchi cioè non lo so io ragazzi non ma tornando al discorso che fine può fare Refactor 2 oppure non è un è un problema che non tocca diciamo il titolo di Studio 397 e che magari mi sto facendo delle pippe mentali per niente e lo spero perché il tanto agognato sponsor che ti acquista anzi una tanta agognata azienda che ti riacquista di nuovo perché Refactor c'è una storia ti riacquista per immettere dei soldi per mettere forze fresche idee fresche che non paga i propri dipendenti ragazzi dopo che stavano facendo comunque dei passettini avanti molto interessanti ti cadono le braccia per non usare altri termini no io spero vivamente che non cioè che non ci sia non ci sia pericolo per Refactor 2 perché sarebbe veramente un peccato quindi a questo punto bisogna solo aspettare vedere quello che succede però insomma voi cosa ne pensate lasciatemi un commento qui sotto ditemi le vostre opinioni quali sono i scenari possibili che si possono presentare per Refactor 2 e se avete altre notizie chicche e curiosità in merito a questa situazione qua non esitate a condividerla con noi ovviamente se il video vi è piaciuto un pollice in su e iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto ciao